Assistenza sul territorio garantita a 16 ore su 24 e nelle ore notturne dal 118. Questa è una delle novità contenute nell'atto di indirizzo per il rinnovo della Convenzione di Medicina Generale. Una vera e propria rivoluzione per gli studi medici di Medicina Generale di continuità assistenziale, ossia le guardie mediche, che potrebbero rimanere aperti dalle ore 8 alle 24, 7 giorni su 7. Inoltre potrebbero non esserci più file per pagare ticket e prenotare visita ai CUP, poiché i pazienti, secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo, potranno farlo comodamente dagli studi medici. Abbiamo voluto chiedere l'opinione su queste possibili modifiche sull'assistenza sanitaria al segretario provinciale della FIMG, ossia la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale Salvatore Pasqualetto. Intanto prendiamo atto di questo atto di indirizzo, quindi un fatto positivo, perché si apre una trattativa che è ferma da diversi anni, da 6-7 anni la medicina generale, quindi è disposta. È ovvio che quando si parla di H16, si parla di H16 non solo da medicina generale, ma la medicina generale insieme alla condizione assistenziale. Questo H16 che viene così, diciamo, descritto, quindi dall'atto di indirizzo, da parte della controparte, quindi dello Stato, in realtà è un qualcosa che poi deve essere intercalato a quelle che sono le realtà locali, quindi concordando con i dettori generali sulle esigenze del territorio, se è il caso di fare H16, H24 o diversamente. Nel caso specifico che dovesse farsi l'H16 è ovvio che dalle 8 alle 20 sulla medicina generale, dalle 20 alle 24 la condizione assistenziale, mentre dalle 24 alle 8 di mattina il 118 potenziato. Ma ripeto, questo sarà concordato a livello territoriale con i direttori generali sulle esigenze del territorio. Non è un modello che va esteso equamente su tutto il territorio, ma va quindi concordato, condiviso e intercalato alla realtà locale. La possibilità di fare prenotazione di SM online per far sì che il paziente non si rega personalmente, fisicamente oppure attraverso quindi file anche telefoniche, direttamente in ospedale o nei punti di accettazione. Quindi questa è una cosa da vedere ancora, ma stiamo valutando positivamente in ogni caso. Per quanto riguarda invece la cosa diversa è il pagamento dei ticket di cui si parla all'interno degli studi medici. Questa realtà non è prevista, almeno in linea generale, può essere fatta in alcune realtà in cui ci sono un numero di medici eccessivo, 10-20 medici aggregati, che l'azienda sanitaria potrebbe mandare, ripeto, sempre in alcune realtà, un dipendente, quindi l'ufficio ticket dell'azienda, quindi in quel polo ambulatorio, in quella particolare medicina di gruppo associata e riscuotere il ticket per conto sempre dell'azienda, il personale dell'azienda, non il personale medico.